Ifer Monitoring and Mapping Solutions ha sviluppato una nuova tecnologia per l'assessibilità di volume di timbre. Questa tecnologia è uscita per i proprietari di foresti e le compagnie di luogo che vogliono mesurare accuratamente il volume dei trini di stando nella loro foresta. Per esempio, questo è il caso delle auzioni di foresti. Il volume finale è calcolato dopo le mesurazioni diretti. Significa che non devi preoccupare di fare questa calcolazione usando le tavole vecchie di volume. I dispositivi utilizzati per mesurare sono il trupulso, il laser rangefinder e il calipero elettronico. Data di input S3height e il diametro di breastheight sono sentiti online via bluetooth al computer. Anche il diametro di upper-diametro può essere mesurato. Si tratta di circa un giorno di mesurare un volume di 700 m3. Direttamente nel campo, puoi definire i risultati di timbre e calcolare il volume e il prezzo secondo le necessità di mercato e la città locale. Con la nostra tecnologia, i proprietari di foresti e le compagnie di luogo si tratta di crescita anche dopo il luogo. Questo aiuta a risolvere i risultati tra i proprietari di foresti e le luogo di luogo quando l'amount di luogo extratto non è chiaro. Per più informazioni e contatti, visite il nostro sito. Grazie. Grazie a tutti.